Buongiorno a tutti, oggi parliamo di mobilità, di trasporti e di uno dei settori che in questa fase del coronavirus, questi ultimi mesi in Italia e nel resto del mondo, ha avuto un impatto molto forte, è cambiato tantissimo, abbiamo dovuto rivedere tutte le nostre modalità di spostamento e soprattutto nel futuro ci stiamo immaginando un sistema di mobilità e di trasporti che è sicuramente diverso da quello che abbiamo conosciuto fino all'inizio del 2020. Lo facciamo con il nostro ospite che è Claudio Domenicale che è Presidente dell'Associazione Motor Valley da novembre del 2019, quindi da pochissimo, e CEO di Ducati Motor Holding. Facciamo questa chiacchierata, buongiorno Claudio. Ciao, buongiorno a tutti. Facciamo questa chiacchierata subito dopo un evento importante che si è svolto nei giorni scorsi che è il Motor Valley Fest, che è un evento quest'anno ovviamente per ovvi motivi svoltosi in digitale e non in maniera analogica, nel quale si discute del futuro della mobilità, dei trasporti e ovviamente dei mezzi di trasporto sotto una chiave che hanno di guarda e piace tantissimo, oltre a quella della tecnologia, dell'innovazione, quindi capire come il digitale, le tecnologie, l'innovazione in generale possono entrare, possono cambiare quel mondo e disegnare nuovi trend e nuovi stili di vita, nuovi consumi, oltre a disegnare nuovi prodotti. L'evento è organizzato dall'associazione Motor Valley, di cui Claudio è Presidente, quindi la prima domanda che ti faccio Claudio è un bilancio, non tanto in termini di presenza e di comandata, su quello state già comunicando, ma a capire più che altro quali sono le tendenze principali tecnologiche di innovazione che sono emerse dal Motor Valley Fest. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per questa possibilità di in qualche modo fare il punto. Direi che è stato molto interessante, anche se abbiamo fatti conti con una situazione complessa, quindi Motor Valley Fest è certamente un momento bello per ritrovarsi e fare il punto. La prima edizione è stata lo scorso anno, quindi quest'anno siamo appena alla seconda, ma è anche un momento bello per tutti gli appassionati, per ritrovarsi e sentire proprio, toccare con mano queste macchine bellissime, queste moto da sogno che vengono prodotte in questa valle straordinaria che si è radunata attorno alla Via Emilia in cui ci sono questi marchi fantastici da Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani e anche Ducati. È chiaro che non avere la possibilità di avere in qualche modo il pubblico certamente ha fatto mancare una parte, però è rimasta tutta la parte in cui ci siamo riusciti a connettere con tutto il mondo e quindi abbiamo voluto anche proprio dare un segno di volontà. Sarebbe stato facile dire siamo al tempio del coronavirus, il Motor Valley Fest non c'è, quindi lo rimandiamo all'anno successivo. Quindi credo che sia anche un segno bello da parte delle aziende della zona, della regione, di Motor Valley Development, di dire ci siamo. Molte cose non si possono fare, però se ne possono fare delle altre. Siamo stati in contatto con tutto il mondo attraverso la piattaforma virtuale e abbiamo potuto offrire un dibattito, credo interessante, su non solo gli impatti della situazione attuale, ma anche una visione del futuro. E quindi credo che le cose che sono uscite con più forza siano in un qualche modo che questa situazione in cui si trova tutto il mondo in realtà non cambia la dinamica di rapporti, di trasformazione verso la tecnologia, più che altro la accelera, nel senso che una serie di processi che riguardavano un rapporto anche, facciamo un esempio, molto diverso con il consumatore finale di quello che esisteva dieci anni fa, in cui magari un consumatore andava cinque volte in concessionaria prima di fare un acquisto e oggi ce ne va una perché è straordinariamente più informato. Diciamo che questo era già in vigore prima, come moltissimi altri processi di trasformazione digitale. Quindi diciamo che oggi il coronavirus ha, se vogliamo, per effetto dei distanziamenti sociali, reso ancora più evidente la differenza fra chi queste tecnologie ce le ha già e le controlla molto direttamente e chi invece magari ha ancora un po' un passo indietro. Certo, c'è questa bellissima, non so se l'hai vista, questo bellissimo meme che gira su internet in cui, classica slide dell'azienda di consulenza, chi è che fa la trasformazione digitale nella tua impresa e le alternative sono il CEO, il CTO e il Covid. E forse ci troviamo in questa situazione qua, dove c'è stato un agente esterno che non ha nulla a che fare con la tecnologia, ma che sta accelerando in tutti i settori, in quel caso nella trasformazione digitale delle imprese, ma anche negli stili di vita e nei consumi che abbiamo noi. Banalmente questa intervista senza digitale non riusciremo a farla. Senti, come cammi? Lasciami però magari spezzare una lancia su una cosa che è caratteristica della motorvata e che è uno stile di vita e quindi qui ci sono queste imprese bellissime, ma c'è anche uno spirito delle persone, c'è una bellezza dello stare insieme, c'è una bellezza della cultura, del cibo, una cultura enogastronomica. Credo che la parte bella del futuro sarà mixare proprio queste cose, cioè la parte fisica e la parte digitale in un unicum che non ha una parte che domina sull'altra. Quindi credo che non appena sarà possibile, sarà veramente bello però, ritrovarci insieme fisicamente, riassaporare i profumi, riassaporare i gusti e questo forse è l'equivalente da un certo punto di vista dell'omnichannel nel retail, nella vendita. Quindi non ci sarà una cosa che domina rispetto a un'altra, credo che il vero successo starà nel riuscire a rimbalzare continuamente da un'esperienza digitale a un'esperienza fisica. No, no, ma infatti quando si utilizza il digitale per rimpiazzare l'analogico spesso non funziona, il giusto mix sarà. Anche perché ci sono delle cose della nostra vita che sono delle esperienze collettive che dobbiamo tutelare, la scuola, il lavoro, andare a cena fuori, no? È una cosa che il digitale, su quello il digitale non può assicurare, sicuramente, speriamo avere un impatto così bene. Abbiamo fatto tutti in questo periodo anche gli aperitivi virtuali, no? Credo, no? Quindi... Sì, però io non vedo l'ora di poter tornare a farmene uno vero. Credo che faccia parte un po' della natura umana e noi come italiani e ancora di più come emiliani credo che questa cosa ce l'abbiamo proprio innata ed è un valore aggiunto che dobbiamo continuare a portare avanti. Senti, una cosa, come cambia il settore del... il futuro dell'automotive e della mobilità in un... secondo te nel breve periodo e anche nel medio lungo, no? Perché per esempio ci troviamo in una situazione strana, no? In cui, diciamo, la società, le pressioni sociali, anche pressioni positive ci hanno sempre spinto negli ultimi anni ad utilizzare per esempio dei mezzi di trasporto pubblici. Oggi ci ritroviamo in una situazione in cui, dato oggettivo, senza voler fare ovviamente il calco sull'ambiente che va comunque fatto, oggi il mezzo di trasporto più sicuro è il mezzo personale. Che sia l'automobile o che sia, diciamo, le due ruote, sicuramente per esempio andare a lavoro o spostarmi con un mezzo mio mi mette, dal punto di vista sanitario, più al sicuro di prendere la metropolitana o un altro mezzo di trasporto pubblico. Ecco, come ti immagini che cambierà questo, diciamo, il nostro rapporto con i mezzi di trasporto e soprattutto qual è il futuro che ti immagini per il vostro settore? Ma io credo che questo cambiamento ci sarà nel breve e medio periodo, quindi sicuramente oggi è così. Non mi immagino che questo sia un cambiamento di lungo periodo. Credo che l'uomo, come ha dimostrato molte altre volte nella storia, troverà il modo di gestire il rapporto con questo virus e che sia esso un vaccino, che sia una cura. Sicuramente non l'abbiamo nel medio e tantomeno nel breve periodo e quindi non credo che questo cambierà i trend di lungo periodo che fondamentalmente sono legati all'urbanizzazione, quindi c'è un continuo, in qualche modo, aumento delle persone nel mondo che vivono nelle città e quindi nella necessità anche di avere nelle città, in qualche modo, dei mezzi di trasporto organizzati. Credo che quello che hai detto tu, quindi che la sicurezza nel medio periodo sia totalmente legata all'utilizzo del mezzo di trasporto individuale, questo che ha un prodotto come il nostro e quindi chi fa moto, chi fa auto, sicuramente in questo momento è positivo. Il grande vantaggio della moto è che ti diverti pure e che si va veloci nel traffico e si parcheggia facilmente, quindi abbiamo ancora un vantaggio in più, però credo che nel lungo periodo quello che erano gli scenari pre-covid non siano intaccati, se non in un'accelerazione del cambiamento digitale e quindi con tutto questo, tutto quello che questo comporta, perché probabilmente ognuno di noi ha fatto esperienza di vite e situazioni che gli hanno fatto capire che poi fin dei conti, magari anche il lavoro da remoto, è una possibilità molto più efficace rispetto a quello che credeva e questo impatterà anche sulla mobilità necessaria, perché certamente se all'interno di un'azienda di mille persone, anziché doversi muovere tutto il giorno mille persone per entrare in azienda, se ne devono muovere solamente 500, perché comunque l'azienda vive in un modo diverso, non ci sono più gli uffici dedicati, io parlavo con un imprenditore, mio amico, proprio ieri, lui sta ristrutturando l'azienda in questo momento e sta passando a una riduzione del 40% dei posti seduti e quindi facendo diventare in qualche modo strutturale il fatto che il 40% delle persone lavorino da remoto. Diciamo che forse questo non sarebbe stato così semplice per lui deciderlo pre-Covid, torto collo ha fatto l'esperienza che questa cosa poi in realtà funziona abbastanza e magari è molto importante controllare la tecnologia e quindi la velocità di connessione fino all'ultimo miglio ad esempio, però certamente accelera dei processi che altrimenti non sarebbero venuti così rapidamente. Sì, con un'attenzione anche particolare a tutta una serie di cose su cui aveva puntato nel passato, per esempio anche in ufficio all'open space, oggi è un formato di lavoro, diciamo di ambiente lavorativo penalizzato rispetto a, insomma, nello spazio, anzi ci stiamo dicendo dobbiamo stare più isolati possibile anziché lavorare insieme. Senti, sempre rimanendo nel vostro settore, allora ci sono grandi discussioni su grandi direttrici tecnologiche, penso alla guida autonoma, penso alla mobilità elettrica, quali sono, dal tuo punto di vista, anche rispetto a quello che avete discusso alla Motor Valley Fest, le grandi direttrici tecnologiche di sviluppo tecnologico del vostro settore? Beh, penso che la mobilità elettrica sia in un qualche modo una strada tracciata in cui nel lungo periodo una direzione ormai segnata. Quello che penso che sarà più differenziato rispetto a quello che è probabilmente l'aspettativa oggi è l'applicazione di questa elettrificazione ai vari tipi di veicolo. Faccio alcuni esempi, ieri c'è stato un intervento molto interessante da parte di Bosch che ha portato in un qualche modo, in modo evidente, una serie di informazioni che però sono, diciamo, abbastanza note anche all'interno del settore. Anche Shell, che è nostro partner nello sviluppo della parte combustibile molto avanti in questa ricerca qua, ci aveva presentato esattamente lo stesso scenario, le vetture elettriche, i cosiddetti BEV, Battery Electrical Vehicle, sono particolarmente adatti all'uso nelle città e comunque hanno un range che spesso è in un qualche modo non così esteso per farne tutti gli usi, oppure per avere un range particolarmente steso diventano costosi perché devi imbarcare una quantità di batterie importanti e quindi per alcuni tipi di settori, per esempio per il trasporto pesante, l'uso delle celle diventerà, dell'idrogeno è molto probabilmente una direzione molto più chiara e quindi l'idrogeno e le celle che producono l'energia elettrica permetterà dei tempi di rifornimento molto più rapidi perché ricaricare l'idrogeno, a questo punto è molto simile che ricarica un combustibile e se l'idrogeno viene realizzato con fonti rinnovabili, cioè viene prodotto idrogeno con fonti rinnovabili, allora la cella combustibile è alimentata da idrogeno, idrogeno prodotto da fonti rinnovabili è esattamente completamente carboignutile e la terza parte che non è così nota e dibattuto ma è l'unica soluzione possibile per veicoli che fanno del peso, la variabile fondamentale come potrebbero essere gli aerei o potrebbero essere anche le moto sportive è il carburante sintetico prodotto con energie rinnovabili c'è possibilità ormai molto chiara e tecnologicamente anche definita di realizzare combustibile, quindi l'equivalente dell'attuale benzina o gasolio non realizzato, diciamo, da idrocarburi naturali e che quindi poi combinandosi con l'ossigeno emette in un qualche modo poi CO2, che è quello che stiamo cercando di combattere quindi stiamo tutti andando in questa direzione della riduzione dell'emissione di CO2 ma questo carburante sintetico si produce assorbendo CO2 dall'aria in modo tale che quando poi il carburante viene combusto quindi il comburente dell'ossigeno si rilascia di nuovo CO2 il bilancio è neutro perché nella costruzione del carburante ho assorbito CO2 per quanto ne emetto il problema di oggi è che questo processo della costruzione di questo combustibile è molto energivoro e quindi se l'energia la produco bruciando carbone è un processo particolarmente poco intelligente ma se questo combustibile lo produco attraverso energie rinnovabili di nuovo allora sono di nuovo in un processo carbone per cui sarà un mix di batterie che comunque dovrebbero essere sempre ricaricate con energie rinnovabili altrimenti di nuovo far funzionare macchine elettriche con energia elettrica prodotta bruciando carbone è di nuovo poco intelligente come sistema quindi vetture elettriche alimentate da corrente prodotta con energie rinnovabili c'è la combustibile per i percorsi lunghi e i veicoli pesanti e le navi ad esempio e combustibile prodotto in modo sintetico per i veicoli più leggeri Senti, parlando un po' invece delle imprese non parlando solamente delle tecnologie abbiamo i dati di inizio anno ovviamente sono molto negativi era ovviamente prevedibile difficile vendere le moto con i concessionari chiusi sì immagino anche le auto ma anche perché al di là dell'apertura o della chiusura immagino che non sia proprio il primo bene da acquistare nella testa degli italiani in questo momento qui credo che sia anche comprensibile abbiamo visto nei giorni scorsi che il governo ha varato questo decreto di rilancio dove mette sul piatto 55 miliardi e insomma che diventano anche 155 se consideriamo tutte le garanzie che mette il governo per i prestiti delle imprese va beh ma insomma senza entrare troppo nel tecnicismo la sensazione che si ha ascoltando le parole di Confindustria insomma del mondo delle imprese è che però siamo un po' lenti in questa nella parte di rilancio lenti soprattutto in funzione del fatto che c'è una competizione globale dove ci sono aziende come quella di Guido che fa un prodotto finito però c'è tutta una filiera che rischia di essere bloccata e che ha una forte fortissima competizione magari io io consumatore finale posso anche aspettare qualche mese per comprarmi una Ducati però l'impresa che in Cina o in Germania ha bisogno di materiale che produciamo qui in Italia magari se lo va a comprare se lo va a comprare altrove ecco vedi che ci cioè pensi che ci sia un problema di organizzazione che siamo un po' più lenti degli altri o pensi che tutto sommato quello che si sta facendo è quello che potevamo che potevamo fare e che le imprese italiane non subiranno un contraccolpo lo subiranno ma non superiore a quello degli altri paesi? Beh penso che la situazione sia molto difficile quindi che il compito che il governo sta sfrontando sia particolarmente complesso particolarmente complesso anche perché questa grande difficoltà economica si va a appoggiare su una situazione economica dell'Italia già particolarmente debole precedente quindi come quando uno si prende un influencer era già debilitato il nostro paese era debilitato e poi la vicenda del coronavirus che ha fatto più vittime tra i deboli era debilitato da prima e quindi sicuramente la capacità di reazione di un corpo debilitato è più limitata noi siamo un paese fortemente indebitato quindi la capacità poi di rendere disponibili fondi ulteriori è legata ad accordi che vanno fatti a livello europeo quindi c'è stata tutta questa difficoltà per raggiungere una serie di accordi e rendere disponibili in qualche modo le somme perché noi non siamo un paese autonomo non siamo un paese che può decidere di stampare moneta come sono gli Stati Uniti come la Cina e quindi dobbiamo trovare un accordo a livello europeo e per fortuna che l'Europa c'è stata in questo periodo perché se non ci fosse stata attraverso tutto il lavoro che ha fatto di acquisto dei titoli il nostro debito in questo momento pagherebbe un tasso di interesse che è stato veramente più alto rispetto a quello che paga oggi quindi dall'altra parte credo che alcune distanze rispetto a una differenza molto marcata fra le dichiarazioni e poi l'effettiva esecuzione delle azioni siano totalmente giustificate cioè questo ritardo e questa lunghezza dell'applicazione delle norme esiste e rispetto alle esperienze che vediamo noi per esempio la Germania o la Cina o gli Stati Uniti è molto marcata poi questo dipende da una struttura nostra probabilmente organizzativa particolarmente complessa ma che non è nata oggi è in qualche modo una struttura che è costruita negli ultimi 40 anni che fa sì che in un qualche modo ogni decisione debba in qualche modo essere particolarmente controllata valutata e questo sicuramente rallenta in qualche modo l'esecuzione vorrei anche magari cogliere lo spunto per dire che noi stiamo parlando di automotive ma in tutto quello che è stato fatto fino ad oggi il supporto per le aziende di dimensioni importanti quindi noi siamo un'azienda una grande azienda per l'Italia è un'azienda nana per il mondo ma tendenzialmente per il mondo dell'auto o per il mondo della moto il supporto ad oggi di tutto quello che è stato fatto è molto basso o nullo e quindi certamente è uno sforzo che deve essere fatto di distribuzione delle risorse che sono limitate rispetto a quelle che sono le valutazioni che sono valutazioni politiche però certamente non è in questo momento il supporto al nostro settore di tutto quello che abbiamo visto non si è visto in modo particolare che lo usavano in Fumiso Senti una cosa i più critici dicono che sostanzialmente non c'è un disegno cioè non c'è un progetto ma c'è solamente l'idea di mettere delle toppe a dei buchi enormi che ovviamente non sono causati dal governo o da insomma o da chi ha dalla classe dirigente di questo mese qui ma da un agente esterno e imprevedibile come è stato il coronavirus pensi che stiamo perdendo un po' l'opportunità di ridisegnare e di riprogettare alcune cose che non funzionavano prima oppure in questa fase qui bisogna solamente mettere soldi sui settori che non ce li hanno no io credo che sia una fase in cui bisognerebbe guardare molto attentamente cosa succede negli altri paesi la competizione è globale internazionale tu hai fatto l'esempio del fornitore prima ma questo vale per tutte le aziende anche chi fa prodotto finito come noi noi abbiamo avuto una chiusura di sei settimane come azienda produttiva le aziende per esempio in Germania non hanno mai avuto un obbligo di chiusura piuttosto che in Giappone e chiaramente poi il cliente a volte decide di aspettare a volte no quindi certamente bisogna essere molto attenti e porre sempre la salute delle nostre persone davanti a ogni altra scelta perché per l'imprenditore in generale questa è la risorsa più importante dall'altra parte credo che si stia ancora se possibile sottostimando l'impatto che le scelte che stiamo facendo a livello governativo avranno sul paese stesso cioè quando noi abbiamo dei dati aggiornati settimanalmente da tutti i paesi e quello che sta succedendo in Cina è molto diverso da quello che sta succedendo in Germania che è ancora molto diversa da quello che sta succedendo sugli Stati Uniti e quindi questo in un qualche modo porterà un conto da pagare che sarà inevitabile e quindi prima di ridistribuire delle risorse e quindi dire su quali settori indirezzare le risorse le risorse bisogna crearle e quindi è chiaro che se siamo in una situazione in cui la possibilità di creare queste risorse è fortemente compromessa diventa tutto oltremodo complesso l'industria dell'automotive in Italia oggi è estremamente legata all'alto di gamma vale la pena di ricordare che oggi siamo nel 2020 30 anni fa era molto diverso quindi non sono cose che sono successe negli ultimi due anni è il risultato di una storia molto lunga l'industria dell'auto in Italia era in grado di contribuire al bilancio dello Stato in modo estremamente importante attraverso centinaia di migliaia di posti di lavoro dell'industria e dei fornitori che nel tempo purtroppo per molti motivi si sono persi per strada è chiaro che tutto questo quando ci si confronta con paesi diversi come per esempio la Germania o la Cina ma anche la Francia o anche la Spagna ha un'industria dell'auto straordinariamente più forte ma il fatto che l'industria sia forte significa centinaia di migliaia di posti di lavoro come abbiamo visto che significa centinaia di migliaia di persone che pagano le tasse sul proprio paese perché ogni lavoratore che è impiegato nel paese è un lavoratore che poi contribuisce al bilancio dello Stato è estremamente importante poi che l'azienda sia profittevole perché se l'azienda è profittevole paga le tasse nel paese è estremamente importante che un'azienda abbia la residenza fiscale nel paese e questo in Germania è sempre così in Cina è sempre così in Italia vediamo che ci sono dei casi in cui questo non è così e questo secondo me è particolarmente negativo perché le risorse poi lasciate sul paese sono le risorse che ci servono per gli ospedali ci servono per le scuole ci servono per le strade quindi questo credo che sia a questo punto necessario anche un giudizio da parte dei cittadini e uno le deve dare secondo coscienza senti un'ultima un'ultima domanda che ho promesso che non ti avrei rubato tantissimo tantissimo tempo chiudiamo con una nota diciamo di ottimismo mi dici quali sono secondo te i punti di forza delle imprese italiane in particolare delle imprese italiane del tuo settore che dici va bene questi sono talmente forti questi sono talmente punti nostri per cui coronavirus paese debilitato come l'abbiamo diciamo raccontato ma comunque ce la facciamo ti abbiamo perso per un attimo Federico ah scusatemi allora no ti dicevo erano i punti di forza delle imprese italiane e del tuo settore per cui dici ok nonostante il coronavirus nonostante il paese debilitato noi comunque ce la possiamo fare ma i punti di forza sono fortissimi i punti di forza dell'azienda della Motor Valley sono una combinazione tra tecnologia e bellezza che è unica e unica al mondo sono dei marchi che hanno un prestigio e una capacità di innovare straordinaria per cui qui siamo capaci di creare dei sogni siamo capaci di creare dei sogni contemporanei contemporanei nel senso che sono straordinariamente tecnologici cioè le aziende che stanno in questa regione non sono aziende che si sono abbandonate alla nostalgia e quindi all'idea di avere dei marchi storici quindi io sono la Ferrari o la Maserati o Lamborghini e quindi un'azienda che è nata 80 anni fa o 100 anni fa ammirata in tutto il mondo quindi microgiolo in qualche modo in questa versione nostalgica che è in qualche modo un preludio della fine sono aziende straordinariamente dinamiche moderne tecnologiche che sono capaci di sfornare a ripetizione prodotti totalmente all'avanguardia in termini di integrazione delle performance con la tecnologia con la sicurezza e sono capaci anche di fondere e questo credo che sia un unicum all'interno di tanta tecnologia una grande bellezza e questa bellezza fa sì che questi prodotti siano poi degli oggetti di desiderio e l'emozione il desiderio la bellezza sono desideri connaturati nella natura umana e quindi tutti abbiamo dei sogni e cerchiamo di esaudirli appena è possibile quindi per chiunque si è appassionato di auto e di moto credo che questo territorio sia un territorio straordinario che quindi saprà superare bene anche questa difficoltà bene ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata ricordo Claudio Domenicali che è il presidente dell'associazione Motor Valley e CEO di Ducati Motor Holding grazie mille Claudio del tuo tempo e speriamo di vederci fisicamente presto ciao a tutti ciao ciao